Over 50, non la conosco perché io le nuove non le conosco, Paola Pattaro, chi è? Paola Pattaro! Luis Veneto, super incredibile, Luis Veneto, Paola Pattaro, from Veneto. Asset Veneto, Asset Maestre, Asset Maestre, Asset Maestre, Asset Maestre, Asset Maestre, Anche su Roma parecceva a noi. Allora, scusa, vediamo qua, Miss Veneto, allora, siamo al top, ormai Veneto sta toffando da qualcuno, Asset Formula 1, Asset Maestre, Miss Sola Nova, che prossimamente in Gondola, che sarà Paolo Superoi, e Miss Veneto, che è? Si è Paola Pattaro. Paola Pattaro, Asset Maestre, THP o Gigi di Joker. Aspetta che ci vediamo anche Davide Aiello, Letrizia Notizia, vieni qua, vieni qua, da dove sei capisci? Da Belluno, mi sono andato a fare l'intervista al cinaco del calazzo del calore. E guarda, guarda Davide Aiello ha già detto Belluno, avete capito? Ho capito ciò che ciò che mi ha detto. Allora ciò, ciò al Veneto, numero uno, Veneziano, a Miss Sola Treviso. Ah, lui, scusa, non avevo capito. La Resana, vicino a Fattia Franco. Da dove sei? Mia sorella è di Mosbigo. Ecco, vedi, ora tutto quanto in famiglia. Oh, per me l'ho proposto truccare, perché qua mi sono andato. Ma meglio così, finalmente, finalmente, portiamo a casa, esatto. Vieni qua, Sonia, scusa che sono stupido in quei libri, no? Sono stupido? No, senta cosa qua, tutto, no. Una volta Vinci è sempre rosa, adesso Vinci è Treviso. Eh, la vendetta. La vendetta, la vendetta. Esatto, Sonia Borgonova è arrivata. Da dove sei capisci? Lei arriva direttamente dall'Archi Salone. Lei arriva direttamente dall'Archi Salone. Lei arriva direttamente dall'Archi Salone. Sì? Lei arriva direttamente dall'Archi Salone. Lei arriva direttamente dall'Archi Salone. Lei arriva direttamente dall'Archi Salone. Toccom. Metri Salone, più agimi. Poi pote è la nostraowych schiavo chiesce. Il nostro lavoro di vivereritto. Grazie a tutti Grazie a tutti